buongiorno ragazzi e buongiorno ragazze il libro che voglio consigliarvi oggi si intitola delitto allo specchio a chi lo consiglio beh innanzitutto ai ragazzi e le ragazze che amano leggere i gialli e anche a tutti quelli che amano le atmosfere un po di tensione mistero in cui abbiamo la sensazione di non poter mai stare tranquilli che cosa racconta questa storia è un giallo e si apre subito con una scena che tiene il lettore incollato alle pagine un delitto allo specchio proprio come dice il titolo ma facciamo un passo indietro la storia è ambientata in un collegio un collegio femminile uno strano collegio abbarbicato sulle alpi pieno di orologi orologi stranissimi in ogni stanza gli orologi erano infatti la fissazione del fondatore di questo collegio proprio in ragione di questi orologi viene assunto tobias un giovanissimo orologiaio che avrà il compito di far funzionare perfettamente tutti questi orologi ma non appena tobias arriva nel collegio si rende conto che l'atmosfera di questo luogo è molto strana c'è un'ombra un personaggio che spia tutti gli altri ci sono molti accadimenti abbastanza inquietanti e appunto l'autore ci anticipa la scena di un delitto che poi arriverà nel corso della storia una ragazza viene uccisa ma un attimo dopo tobias la vedrà viva e vegeta che cosa ha davvero visto tobias e soprattutto come potrà scavarsela dato che sembra il maggior sospettato di questo delitto dovrà dimostrare che lui è perfettamente innocente e per farlo dovrà quindi improvvisarsi detective e risolvere l'enigma anzi forse più enigmi che questo collegio nasconde se vi ho incuriosito non mi resta che augurarvi buona lettura grazie a tutti grazie a tutti